2.9. La finzione della realtà. Il teatro non è imitazione della realtà, ma ne è la finzione. Il tuo momento di teatro deve tenere assolutamente in considerazione questa differenza. 3.9. Imitare è il gesto di riproporre la realtà nel modo più uguale possibile. Perché non può funzionare nel teatro? Perché il gesto di imitazione non tiene conto della resa scenica dell'atto, del fatto che la performance, lo scorcio di vita rappresentato non è fine a se stesso, ma è finalizzato, destinato ad una resa scenica. 4.9. Prendi spunto dalla realtà, ma adattala appunto alla restituzione teatrale. Fingila. Va da sé che i movimenti dei pupazzi possono prendere spunto da come la figura riprodotta si muove nel mondo reale, ma necessariamente questi movimenti dovranno essere adeguati al contesto, attore, pupazzo, scena. 5.9. E' altresì utile sapersi districare in queste dinamiche per sapere dove andare ad attingere quando hai dei dubbi. Non sai come muovere la bocca? Vai a guardarti allo specchio, analizzando il movimento che fa la tua bocca mentre parli. Studiala, poi fingila. 7.9. E' altresì utile. 8.9. E' altresì utile. 8.9. E' altresì utile.